Era stata annunciata l'attivazione dalle 8 di questa domenica mattina, ma in realtà è stato necessario attendere un paio d'ore in più prima di vedere davvero attivo il portale unico per la prenotazione online dei tamponi e test rapidi. Lo strumento che, secondo la regione, taglierà attese telefonate al CUP e code, consentendo in particolare ai ragazzi delle scuole di fissare l'appuntamento per il passaggio ai punti drive-thru per i test rapidi dedicati. Un portale da utilizzare in totale autonomia e a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi, per prenotare un tampone e un test rapido con quattro semplici passaggi. Aprire il sito, inserire il codice fiscale, numero di cellulare e di ricetta elettronica, scegliere luogo e data in cui si vuole effettuare il prelievo e infine attendere un sms di conferma. Il referto potrà poi essere ritirato in modalità digitale, accedendo al fascicolo sanitario elettronico con la tessera sanitaria, con spido con carta d'identità elettronica, ma anche dal recente portale dedicato ai referti. Oltre al portale di prenotazione, verrà in questo caso utilizzata nei drive-thru per loro natura mobili, l'app sviluppata dalla regione denominata A Scuola in Salute, che consente agli operatori di registrare l'accettazione e l'esecuzione del test stesso direttamente sul posto. Ai ragazzi delle scuole verranno dedicati prevalentemente i test per la determinazione qualitativa di antigeni specifici per SARS-CoV-2, data la velocità di esecuzione che va dai 15 ai 30 minuti, andando così incontro alla necessità delle famiglie e delle scuole di avere risposte in tempi rapidi.